Il barco è ralloppiato. Cosa significa? Significa che vengono utilizzate barche più piccole, su cui vengono caricati circa 25 persone, senza scattista, in modo tale che non si corre nessun territorio. Sono barche leggerissime, esposte veramente al mare. Alcune di queste barche sono state trovate rovesciate e vuote. Questi sono, ogni volta, ogni barca rovesciata circa 25 muore. È impossibile dire quanti siano i cosiddetti clandestini che muoiono in mare.